Finalmente abbiamo passato il periodo peggiore, direi che siamo fuori completamente dalla fase drammatica della pandemia, in una fase di transizione verso l'endemia, finisce lo stato di emergenza e il successo di questo stato di emergenza è sicuramente legato alla vaccinazione, agli sforzi che sono stati fatti dalla ricerca per portare il vaccino nella nostra disponibilità e alla distribuzione del vaccino, così come a tutti coloro che hanno fatto la vaccinazione e quindi hanno ridotto la circolazione del virus e ridotto notevolmente quelle che sono le complicanze legate al SARS-CoV-2 e le successive varianti che fino ad oggi abbiamo vissuto.